Ciao, io sono Sara e oggi mi insegnerò a fare una base per un ottimo trucco. Prima di tutto prendi una crema che sia molto curiosa, molto curiosa. Si mette nei 5 punti principali in fronte, sulle guardie, sul naso, su me. Dopodiché si prende il corretore, si mette nei punti dove necessità corretta. E si mette appunto sull'occhiaio, sull'occhiaio, sui punti rossi, sui punti neri, sui brucoli. Dopodiché appunto si tampona per me la faccia. Poi si prende il fondo di misa e si mette nei punti principali. Infine si prende la cipria. Prende le manzoni, si sbappe, si soffia per eliminare il supletto. E poi si dà ancora tutto il viso. Questo serve per fissare il tuo cuore fino a tutta la pasta in tutto. E per poter ricominciare il tuo cuore e le labbra. E con un trucco così laterale assicurato. E con un trucco così laterale assicurato. E con un trucco così laterale assicurato.